Non arretrano i contagi, continuano a cavalcare l'onda lunga delle feste, sono 1.094 i positivi riscontrati nelle ultime 24 ore, dei quali 518 a Gela, 188 a Caltanissetta. Non diminuisce la pressione sugli ospedali e si continuano a contare ancora i morti. Un decesso di un paziente di Gela è 620, sono i guariti sempre di meno rispetto al numero dei positivi. 1.398 i positivi a Caltanissetta. Dal report dell'ASP presentato al tavolo prefettizio c'è stata una triplicazione dei contagi nell'arco di un mese ed è una fotografia tutto sommato parziale dei contagi perché l'ASP è indietro di dieci giorni rispetto al tracciamento. All'interno del tavolo prefettizio alcune specifiche con le problematiche segnalate dai sindaci, ovvero quella dei rifiuti speciali dei soggetti positivi. Sul punto i vertici dell'ASP pare abbiano confermato che a seguito di alcune difficoltà nella gestione di un numero così elevato di positivi l'azienda che si occupa della raccolta ha previsto tutta l'organizzazione assicurando nel breve periodo un rinallineamento.